Paura questa mattina a Marotta, dove un ciclista di 12 anni è stato investito da una Fiat Panda mentre attraversava la strada. È accaduto intorno alle 7.30, lungo la strada provinciale Pergolese, all'altezza dell'intersezione con Viale Europa. Il ragazzo che si stava recando a scuola è rimasto ferito, ma sempre cosciente. Sul posto, oltre ai vigili urbani al 118, è atterrato un'eliambulanza. Il 12enne è stato trasportato, per accertamenti, all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, ma non è in gravi condizioni. Illesa, invece, la conducente dell'auto, una 64enne residente nel comune di Mondolfo, che stava percorrendo la strada in direzione Marotta. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia locale, che dovrà accertare anche se il giovane abbia attraversato sulle strisce pedonali presenti in quel tratto. Altri due incidenti si sono verificati sempre questa mattina a Pesaro, il primo alle 9.05 lungo la statale 16. Una moto BMW condotta da un 58enne di Pesaro ha tamponato uno scooter guidato da una 27enne del posto. Ad avere la peggio è stata la giovane, ferita lievemente, che è stata trasportata dai sanitari al San Salvatore. Intorno alle 11 poi è accaduto un altro sinistro, in via Fratelli Cervi, nel quartiere di Villa Fastigi, dove un settantenne di Vallefoglia, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della Mazda 2 sulla quale viaggiava e all'altezza dell'istituto di credito ha battuto la segnaletica dell'attraversamento pedonale ed è finito contro un'auto in sosta. L'uomo, che è rimasto ferito, è stato portato all'ospedale di Pesaro. In entrambi i casi, per i rilievi di legge, è intervenuta la polizia locale di Pesaro.